Celiachia e allergia al grano sono la stessa cosa, vero o falso? Falso, perché la celiachia è una malattia autoimmune, mentre invece l'allergia al grano è una malattia mediata da un altro tipo di infiammazione, che è mediata dalle immunoglobuline E, e quindi è falso. Celiaci non si nasce, ma si diventa, vero o falso? Falso, nel senso che si nasce con una predisposizione genetica a sviluppare la celiachia, non tutti quelli che hanno la predisposizione poi la svilupperanno, e si può sviluppare a qualsiasi età, c'è chi la sviluppa subito dopo lo svezzamento, chi più in là nel tempo, però si nasce con la suscettibilità genetica, cioè con i geni predisposti a sviluppare la celiachia. Gli allergici hanno un rischio maggiore di diventare celiaci, vero o falso? Falso, proprio perché sono due meccanismi completamente differenti. I diabetici hanno un rischio maggiore di diventare celiaci, vero o falso? Vero, però solo alcuni tipi di tipologia di pazienti diabetici, cioè quelli che hanno un diabete di tipo primo, o il diabete quello che viene solitamente nelle giovani persone, cioè quello di tipo primo. I familiari di un celiaco hanno più probabilità di diventarlo, vero o falso? Vero, infatti quando solitamente si fa la diagnosi di un paziente, si invitano tutti i familiari di primo grado a fare lo screening per la celiachia, proprio perché hanno un rischio lievemente aumentato. La celiachia influisce negativamente sulla crescita dei bambini, vero o falso? Vero nel momento in cui non è diagnosticata, cioè se un bambino mangia col glutine ed è celiaco ha dei problemi di crescita. Nel momento in cui viene diagnosticato e segue la dieta correttamente ciò non succede. Esistono forme di celiachia più gravi e forme più lieve, vero o falso? È vero, la celiachia solitamente ha una prognosi ottima, nel senso che chi si mette a dieta sostanzialmente non ha poi grossolane diversità con la popolazione generale. Invece c'è una fascia molto ristretta di pazienti celiaci e molto rara che è refrattaria alla dieta e questa solitamente è clinicamente più grave. Dalla celiachia non si può guarire, vero o falso? È vero, essendo una malattia autoimmune, una volta che si è sviluppata la terapia e la dieta che tiene la malattia in fase quiescente, ma se anche dopo 10-15 anni un paziente si rimette a dieta libera risviluppa la patologia. La celiachia si scopre eliminando pane e pasta dalla dieta, vero o falso? Falso, solitamente si scopre attraverso gli esami del sangue, e la presentazione clinica è molto varia, non è sufficiente la correlazione che il paziente riferisce con l'assunzione di prodotti col glutine, è necessario fare lo screening con gli esami del sangue. La dieta senza glutine è adatta a tutti e fa dimagrire, vero o falso? Falso, la dieta senza glutine, pur non avendo effetti collaterali, può non essere una dieta to cure dimagrante e chi non ha problemi col glutine può mangiarlo tranquillamente. I cosmetici gluten free sono utili ai celiaci, vero o falso? Falso, nel senso che non c'è attualmente evidenza che un cosmetico contenente glutine provochi dei danni al celiaco. I grani antichi come il farro e il camut sono adatti ai celiaci, vero o falso? Falso, perché contengono glutine anch'essi. La celiachia è in aumento vertiginoso, vero o falso? Vero, quello che si sa dagli studi epidemiologici è che negli ultimi dieci anni, ad esempio, c'è stato un aumento molto importante della celiachia nella popolazione, causato non solo dalla maggior conoscenza dei medici e che quindi prescrivono più frequentemente gli esami per la celiachia di screening, ma anche per un aumento vero della patologia. Grazie